Questa delibera Agicom ovviamente segue ad una consultazione che è stata fatta, alla quale abbiamo ovviamente partecipato e riteniamo che si stia andando nella direzione giusta, senz'altro nella direzione giusta, con una specifica importante che noi operatori TLC cerchiamo di ricordare sempre al legislatore. Noi non siamo content provider e questo è un principio fondamentale, è un punto dal quale non si può assolutamente prescindere nell'approccio a qualsiasi normativa che vada ad incidere sul nostro operato sulla rete. Noi forniamo la rete ma non abbiamo alcun tipo di responsabilità su quanto circola. Se fosse un'autostrada, se ci passa un'auto non omologata o con le gomme sgonfie non è colpa mia. Esattamente, esattamente. Noi siamo sicuramente soddisfatti del fatto che questa delibera Agicom chiarisce che non abbiamo responsabilità da un punto di vista penale soprattutto. Quindi vedremo adesso molto meglio... Cioè mette dei paletti a cui voi siete favorevoli anche per tutelarvi, oltre che tutelare ovviamente gli utenti. Assolutamente sì. Mi piace sottolineare il fatto che Win3 è già dotata di un proprio parente al controllo, ovvero c'è un'applicazione evidente, è dedicata ai nostri consumatori ed è un qualcosa di assolutamente facoltativo. Quindi chi se la scarica ha uno strumento utile per riuscire a filtrare i contenuti che magari può usare il figlio, chi non se la scarica, ovviamente noi non abbiamo alcun titolo per obbligare ad utilizzare questo tipo di applicativo. Però siamo come azienda assolutamente impegnati affinché l'utilizzo della rete sia il più sicuro possibile.